Grosse novità per gli utilizzatori professionali di schiume e adesivi a partire dal 24 agosto 2023. La normativa europea impone, a partire da tale data, 24 agosto, che gli utilizzatori professionali di schiume poliuretaniche utilizzino e conservino un patentino che va a certificare la loro capacità e conoscenza in termini di disocianati. In particolare è obbligatorio per tutti i prodotti che presentano una quantità di tale sostanza maggiore dello 0,1% del peso totale del prodotto. Ferramenta Paride, insieme a Mungo, ti offre la possibilità, in quanto installatore professionale, di seguire un corso specifico per la tematica dei disocianati, un corso che può essere sia in presenza sia online. Mungo ti offre la possibilità, in quanto installatore professionale, di seguire due corsi diversi, un corso di base e un corso più approfondito, in cui andrai a parlare anche di posa qualificata. Se vuoi maggiori informazioni su come approfondire le tematiche di schiume e adesivi poliuretanici con disocianati, contattaci o scrivilo nei commenti. Ciao, alla prossima!